Riccardo, si può dire che la vittoria con Imola è la vittoria chiave della stagione perché insomma mette una serie ipoteca al discorso salvezza? Sì, direi di sì, è stata una partita molto bella e molto importante, abbiamo vinto e direi che è una partita fondamentale, come hai detto te, per il raggiungimento di questo obiettivo che era l'obiettivo primario della società e avendo vinto in un campo così ostico ci permette comunque anche di guardare un pochino più in là e vediamo insomma di dare il meglio nelle prossime partite per cercare di guardare un po' più in alto in classifica. Statistica alla mano è stata l'ennesima vittoria di squadra perché insomma analizzando anche le cifre, anche quelle tue personali comunque tutti quanti avete dato un contributo importantissimo. Sì, siamo stati bravi tutti a farci trovare pronti nonostante i soliti Smith, Amoroso, Fultz che comunque ci danno quella solidità e quell'esperienza importante per questa squadra anche noi della panchina come io, come fattori, siamo stati insomma abbastanza importanti quindi questo ci dà anche stimoli in più per affrontare questa seconda parte di campionato e insomma per cercare di fare del nostro meglio e raggiungere più vittorie possibili. Adesso si torna al Palamagetti, si può puntare insomma con più leggerezza anche alla postseason? Direi di sì, io personalmente dico di sì perché comunque la squadra ha dimostrato che può vincere con chiunque nonostante anche insomma ci sono campi difficili e ostici in questa categoria quindi penso che con un pizzico di ottimismo e un buon lavoro in palestra possiamo insomma raggiungere dei buoni obiettivi.